Ci guardano tutti, vero? Che effetto fa a doppiare di nuovo Elsa? Ma io non aspettavo altro, ragazzi. Elsa è diventata più grande, ha più energia, grinta. È un'Elsa diversa. Elsa sembrava strana, vero? Lei sembra sempre Elsa. Il cambiamento credo che sia un momento di crescita. Ti dà la spinta per fare meglio e per crescere, per affrontare il futuro con un'altra energia e con un'altra consapevolezza. È una storia trasversale. Si parla di avventura, si parla di famiglia. L'amore tra due sorelle è una cosa fortissima, grande, immensa, unica, direi. Che cosa farei senza di te? Sarò sempre con te. Beh, Giulia è cresciuta con le canzoni di Frozen, con tutti i pupazzi in casa. Devo dire che è cresciuta bene. Ciao ragazzi, sono qui con Elsa. Abbiamo appena finito di doppiare Frozen 2, il segreto di Arendelle. Vi aspettiamo al cinema dal 27 di novembre, non mancate.